musica 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 cani scatola eh capito fai mettere il cabello perché bisogna c'ho dei capelli di merda qua beh io sono ancora peggio in mia autocondizione ma c'hanno una vita sembra cazzo se ti sposto un po' perchè vedi come sei sempre un'agonina perfetto iniziamo iniziamo e vai bella raga sempre questo è un nuovissimo video ragazzi siamo oggi un nuovo video questo quale già detto e lui è morto che sono favore ovviamente e qua in compagnia mia c'è uno youtuber in mutande in mutande sono appena svegliato e sono le eh tra mezza ragazzi siamo qui con Antonella la merda al gusto challenge no Antonella credici su detto fa ma se impegnerò il mito a meglio si fa che ce l'hanno facili non ho copiato no ho peggio anche la vecchia rischia al gusto che avevamo fatto era a sera non l'abbiamo mai registrata ecco non l'abbiamo mai caricata vabbè ragazzi sempre sulla con la rivista al gusto merda challenge fan culo tentato che la tua ruota e ci saranno delle monete perché adesso hanno fatto le ruote che guardate fan cagare bisogna grattare per ma fanno cagare la minchia appunto ma guarda che io di ciò qua c'è le monetine di plastica di gioco fa niente big money raga eh così qua il suo guadagno di youtube e direi di iniziare ragazzi che prima vinti perde vuoi salutare vuoi dire qualcosa ciao mamma ciao ciao nonna ciao tua mamma ciao inculati ciao maico c'è che lo volevo perdere niente vabbè inizia lui vai non è vero al tuo canale dici tu alla trasmissione prima gli ospiti no eh ma guarda che mangiamo tutti e due mangiamo tutti e due si ma sei tu ospiti da me è vero ragione quindi cominciai a grattare è la merda vado subito sul nero io io la cosa non è no arancia cibo per cane scatola o arancia beh cibo per cane scatola al fidanzato di mia mamma se lo mangia la beccosa qual'è l'arancia questo cazzo è è una squadra puzza ce l'ho trovata lì dai tre no aspetta non stai a girare non sono le uniche due no ma c'era un'altra ancora due ce li sono vai 3 2 1 via arancia ti sei fai con i denti non so è un po' sciotto l'ho messo nel frigo ormai niente mmm arancia molto buono io devo capire senti 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 è per le tue condizioni minchia è cibo per cani senti voi c'aveva un sapore strano c'è un sapore di carne della madonna io santo in quell'alito che è peggio di quello di me non vado mai a parlare bip bip prego te però era buono ti stai prendendo per il culo queste figlie aspettate un po' quanti punti mi son preso ehm 5 no 6 no qua non è che te lo dice anche qua no beh alla mia dice lo dici invece qua non dice il colore non si te lo dici no giallo bene quindi questo qua affanculo un pacco vecchio allora giallo giallo no aspetta quanti punti sono strazo e aspetta non c'è scritto un gatto sì 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 che c'è dall'altra parte apri apri 5 e io 2 che merda giallo cos'è eh alito fettino l'ho già provata una cosa simile colimone c'è quello di tutti il nostro uno vai mai 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 no no poi mi stava salendo sul vomito ti giuro la cosa faccia veramente cagare mandateli a fare in culo ti ricordi michael nel video quando avevano fatto la tramezzino challenge cioè no scusami queste qua che poi non abbiamo mai caricato chi ne aveva mangiato e quattro buone diceva questa qua cacola viscita o meno qual è la verde pieno una due tre quattro cinque sei è verde giusto sì ma quando scommettiamo che la mia farà cagare il cazzo 3 ho detto almeno sono già 10 cazzo allora tu c'è 10 sì io anch'io no 5 7 5 più 2 prima zero userà allora qua con la visita come la verdiccio qua con la visita poi non è cattiva è buona giuro anche la mia è buona ragazzi no la mia è proprio mela sapete la mia ma mi sembra di mangiare l'eucalipto e la menta è identica no la mia mia ha proprio il sapore di mela non di merda no questa è mela no a mela 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 quindi 11 e 8 prego un altro gusto mi sta a farsi sentire vatti signora mi sembra che era un errore di stampa di forma perché c'era sia uno che l'altro dentro ma comunque con l'alito che ti do mi stava salendo sul momento cos'è nera cos'è nera gratta ancora i raddoppi punti grazie deve grattare ancora e prendiamo punti in più il doppio il doppio ah beh qua ho due punti o uno che non è cosa qua fucsia erba marcia o frutti di bosco beh frutti di bosco non è male beh marcia no tanto però non ti dai sono delle teste di cazzo ma qual è questa qui fai un attimo erba marcia qua questa qua no non c'è non c'è cioè l'unica che a fa culo ma non c'è cioè l'unica che si può per cani o se una francia di nuovo allora se prima io preso la merda te preso con la buona giusto quindi in teoria ci vorrebbe essere una di merda e una buona si cazzo stronzo guarda quello che volevo prendere io giuro che se è merda e mi incazzo fa la lancia è guada 3,2,1 io non mastico ragazzi io ho una tattica faccio un morso barra 2 senza staccarla del tutto poi la lascio in bocca sento venire fuori le sapore se è buono vado avanti a cagare il cibo per cagno a cagare questa ragazzi bau bau cibo bar bau bau no quella lì è ci sto pensando dammi io prego va di lei ma perché io prendo solamente il cibo per cagno quelle di rosse quelle di rosse ne abbiamo a profusione fragola o scella puzzolente vabbè a sto punto profuma di brutalco c'è profuma di cazzo si chiama non muore non mi dà neanche il tempo sette punti si fa cagare ecco sette punti aggiunti alla sua al suo item adesso è già fuori no dieci tredici sette andiamo a venti eh il primo arrivo a trenta noi quanto sono? venti eh punto basta trenta era venti no ho detto trenta venti stronzo e a trenta alla finiamo le caramelle vai mangia quant'è che ho in te? dove è ventiuno no che è ventiuno vai merda lascio la puzzolente madonna sono più buoni era più buono il pannulone del nonno te lo ricordi no vuole facciare cagare di cazzo eh lo so questo mela o cacola b prima abbiamo preso cosa? mela tutti e due prima abbiamo preso mela tutti e due ma si maggiolo questa qua è giusto? questa qua è giusto? mela questa qua è giusto? sì mela qual era? no la quella è finissima non te ne ho aiuto mela molto buone solo che mi sa che io prima avevo cacola mi scelte perché c'è talmente diverso il gusto non capisco un cazzo anche tu? stessa cosa di me? no non so è mela ho su quello che fa cagare possible right now che cazzo no 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 guarda non è buona ah comunque c'è la doppia punti che cazzo sta tenendo sti punti di merda comunque sta perdendo tu eh mela mi butto va bene 21 e 13 13 va bene e al più o meno abbiamo due minuti di registrazione cos'è quella roba? azzurro calzini sporchi o mora? se ti ricordi mora faceva cagare comunque sì lo so no era ribes blue ribes blue ai tempi del grasso vai da sapore grasso a me piaceva sapore grasso ma vai a cagare faceva cagare a cazzo era dash fresh disc in cool no era moment act capi sulle molly vai cos'era? mi fa anche mare ma mora di montagna non capisci se è dolcissima la mia bionda e bionda e bionda non capisci se è dolcissima per colmo no mora molto buono complimenti all'articolo del puzzle facciamo ultime due facciamo ultime due sì sì da quanto? quanto hai se tu quale c'è la vita? erba marcia o frutti di bosco? eh no non c'è più qual è? questa qua di prima che non c'è no sì erba marcia frutti di bosco e perché qua 3 vabbè perché c'è reclamato vai un altro no no giallo manca l'erri ti ricordi i tempi di l'erri è vero alito fetido o limone di nuovo mi faccio vedere la ruota così almeno vedete che non bariamo intanto guardi anche l'ora vedete? ah quant'è? è tipo dobbiamo mangiare velocemente cazzo cos'era? limone mio non mi piace lo stagione limone 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 basta chiudiamo qua il video vedi mangiare ci sarà sul tuo canale ragazzi trovate il link del suo video che uscirà in descrizione e ricordati che il tuo non uscirà prima dovrei essere io pace niente bella ciao saluta ciao 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 no 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 era quella no 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 No, 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 no